Chi avrà trionfato tra canali 5 e Rai 1? Gli ascolti tv di ieri sera, venerdì 12 aprile 2019 sono concentrati principalmente sulle due reti televisive ammiraglie italiane Su Rai 1 andava in onda la quarta puntata della corrida, lo show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio condotto da Carlo Conti Mentre su canale 5 veniva trasmesso il quarto appuntamento di Ciao Darwin 8 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti Chi avrà vinto? Occhio anche agli ascolti dell'Ax Esprime Time del pomeriggio con Barbara D'Urso Per conoscere tutti i dati auditel vi consigliamo di leggere l'intero articolo.gli ascolti tv della prima serata di venerdì 12 aprile 2019 Su Rai 1 la corrida ha conquistato 4.058.000 spettatori pari al 19% di share Su canali 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 4 624.000 spettatori pari al 24% di share Su Rai 2 Kingsman Secret Service ha interessato 1 147.000 spettatori pari al 5% di share Su Italia 1 Red ha catturato l'attenzione di 899 0.000 spettatori 4%. Su Rai 3 la mafia uccide solo d'estate ha raccolto davanti al video 876 0.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Su Rete 4 quarto grado totalizza 1.m Di 1.096.000 spettatori con il 5.8% di share. Sulla 7 propaganda live ha registrato 956 000.000 spettatori con uno share del 5%. Su TV 8 Johnny Stechino ha segnato L1.4% con 314 000 spettatori mentre sul 9 Fratelli di Crozza ha catturato l'attenzione di 1206 000.000 spettatori 4.9%. Gli ascolti dell'Access Prime Time di venerdì 12 aprile 2019 Su Rai 1 i soliti ignoti ottiene 4.722.000 spettatori con il 19.7%. Rai 2 Tg2 post segno è il 3. 5% con 846.000 spettatori. Italia 1 Cse ha registrato 1.082.000 spettatori con il 4. 5%. Rai 3 non ho l'età ha appassionato 986.000 spettatori pari al 4.5% e un posto al sole 1. 750.000, 7.3%. Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.108.000 individui all'ascolto, 4. 9% nella prima parte e 1.085.000, 4.4% nella seconda, mentre sulla 7-8 e mezzo ha interessato 1. 623.000 spettatori, 6.9%. TV8 Guess My Age piace a 491.000 spettatori. con il 2.1% di share. Sul 9 boom. Ha raccolto 299.000 spettatori con l 1.3%. Mentre striscia la notizia cala ancora. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.